Bene, buongiorno a tutti. Oggi parliamo di un tema di grande interesse ed è la questione che ormai la nostra vita è legata indissolubilmente agli strumenti digitali. Siamo ormai immersi costantemente in un ambiente in cui si mescolano gli oggetti fisici con le rappresentazioni virtuali, ma non sempre noi sappiamo poi con esattezza come questi oggetti virtuali funzionano. Bene, questi oggetti funzionano grazie ad un codice sorgente. Che cos'è il codice sorgente? Il codice sorgente non è altro che un testo, ma un testo molto potente che viene costruito usando un linguaggio di programmazione. I linguaggi di programmazione oggi sono ormai più di 8.000, mentre le lingue conosciute sono soltanto 7.000, quindi abbiamo più linguaggi di programmazione che lingue effettivamente parlate. Quindi questo è un tema su cui merita fare una riflessione e noi facciamo questa riflessione con due grandi esperti di questo tema, che sono Stefano Penge, che è un informatico, e Rodolfo Marchisio, già insegnante di scuola secondaria di primo grado, esperto di problemi legati alla educazione civica e alla didattica digitale e alla cittadinanza digitale, perché parliamo con loro perché loro fanno parte di un'associazione che si chiama Codexpo e Codexpo è proprio l'associazione che sta organizzando, anzi che ormai ha organizzato e che sta lanciando una importante iniziativa che partirà nei prossimi giorni e che è un festival della cultura del codice sorgente. È quasi certamente la prima iniziativa di questo genere a livello nazionale, quindi un festival del codice sorgente. Allora, parliamone appunto con loro e la prima domanda è allora, ma che cos'è Codefest, che cos'è il festival del codice sorgente? Stefano Penge, sentiamo. Allora, grazie. Dunque, la parola interessante di questo, tu di codice sorgente ne hai parlato, adesso vediamo perché festival, perché non è un convegno, perché non è un, anche se è organizzato insieme all'Università di Torino, ai dipartimenti di filosofia, scienze ed educazione, al dipartimento di informatica, di fisica, quindi ha una quota accademica, però non è un convegno accademico, non è un convegno paludato, vuole essere un festival. Un festival è qualcosa in cui si capisce qualcosa, ma ci si diverte anche, in cui ci sono non soltanto cibo per la mente, ma anche cibo più in generale per attrarre, per spingere, approfondire, per suscitare un interesse. E quindi effettivamente ci saranno degli eventi, poi magari dopo vi racconto meglio, però ci saranno degli eventi anche che sono musicali, per esempio, cosa che con il codice sorgente, in generale con il digital, eccetera, uno magari non li lega tanto. Il codice sorgente, come hai detto tu, fa pensare alla programmazione, fa pensare a Matrix, a qualche cosa di misterioso che sta lì. E quindi effettivamente se ne sa poco, noi cerchiamo con questo festival di vogliare le persone a saperne di più, cercare di saperne di più. Ecco, ma come nasce questo festival? Cioè perché Codexpo ha avuto l'idea di organizzare questa importante iniziativa? Allora, per noi che siamo un'associazione culturale, questo è il tema, è la missione dell'associazione, cioè ci siamo riuniti persone diverse, insegnanti, programmatori, anche persone semplicemente curiose, perché per noi questo è veramente un buco grosso del panorama culturale, ma proprio sia in termini di studio, non si sa, tu hai citato il numero di linguaggi di programmazione, ma ti sfido a domandarlo a uno studente di informatica dell'università, non solo non sa quanti sono, ma non ne conosce neanche più di due o tre. I linguaggi sono stati inventati, creati, poi usati, poi modificati, e poi c'è una parte per esempio di stile, di estetica, non tutti i programmi sono uguali, alcuni sono più belli, ma in termini di codice, non in termini di effetto. E poi c'è la parte del genere, quante sono le donne che scrivono programmi? E poi c'è la parte relativa alle provenienze, da dove vengono i programmatori? Sono tutti americani, oppure ci sono i cinesi? Ecco, di questo non si sa quasi nulla. Abbiamo delle immagini che ci vengono da qualche film, da qualche film di fantascienza, da qualche romanzo, nella migliore delle ipotesi, però in realtà non sappiamo niente. Persino i programmatori non sono coscienti del valore che ha questo enorme mondo, questa specie di biblioteca ormai sconfinata, perché il numero di testi, cioè di codici scritti per le persone, è enorme. Eppure non se ne sa niente. E quindi l'idea dell'associazione spinge dalla sua fondazione per questo. Ecco, ma a chi è rivolto di preciso questo festival? Chi è rivolto alla manifestazione? Allora, su questo, diciamo, c'è un pubblico vario, variegato, nel senso che è chiaro che il destinatario naturale sarebbe chi in qualche maniera sa, almeno per grandi linee, di che cosa si parla e quindi è interessato magari a scoprire qualche dettaglio. Però non vogliamo fare un festival di specialisti, anzi, in realtà vorremmo che soprattutto gli altri, quindi non soltanto gli studenti di informatica dell'università, ma gli studenti anche di letteratura scoprissero qualche cosa. E non soltanto gli studenti, ma anche i docenti, perché spesso neanche loro ne sanno così tanto. Ma anche tutte le persone in generale che sono curiose, cioè come uno va a sentire, non so se ci fosse il festival della lingua italiana, uno andrebbe a vedere che cosa diavolo è. Ecco, noi ci lo leggiamo comunque anche a tutti, il livello non è per forza alto con termini specialistici, è un livello anche aperto in termini proprio di lessico, di concetti, aperto a tutti. Forse Rodolfo magari vuole dire qualcosa di più. Ecco, è proprio qui che volevo arrivare. Ecco, ma per quale motivo però il mondo della scuola dovrebbe essere interessato da una manifestazione di questo genere? Sentiamo proprio il punto di vista di chi nella scuola ha lavorato e continua a lavorare. Cioè, sentiamo Rodolfo Marchisio. Cosa ne dice? Allora, intanto preciserei che il festival è organizzato da Codespo, ma è un'iniziativa che nasce all'interno dell'Università di Torino, con capofila il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione, il Dipartimento di Fisica e di Informatica, ed è un evento, appunto, si diceva, aperto a tutti. Cioè, tutti gli utenti che sono interessati in qualche modo possono partecipare attraverso il web. Allora, qual è il rapporto con il mondo? Perché? Ecco, questa è una domanda che mi è stata posta. Come un festival con personaggi internazionali, con eventi, con workshop, spettacoli teatrali, musicali, eccetera, potrebbe interessare il mondo della scuola. Allora, intanto il festival di per sé è rivolto a studenti, docenti, studiosi, sviluppatori, imprenditori, hacker, musicisti, artisti, ma anche al pubblico in generale, di appassionati e di curiosi, ma anche a tutti quelli che hanno voglia di guardare, di andare oltre il sipario, oltre quello che appare. Quanto, aggiungerei alla tua domanda, un'altra cosa. Cioè, quanto ne sanno e quanto ne vogliono sapere i giovani? L'impressione è che i giovani oggi vogliono, come tutti, usare le tecnologie, ma non si vogliono domandare, non facciano fatica di domandarsi che cosa ci sta dietro, come funzionano e così via. Allora, sono coinvolti intanto studenti universitari, ovviamente, in alcune iniziative, per esempio quella del primo museo, che sarà allestito, o anche la performance artistica di Polello e così via. Allora, noi come Codespor abbiamo scelto di lavorare con l'istituto di istruzione superiore Avogadro per, appunto, realizzare con loro la mostra del codice sorgente come fenomeno linguistico, letterario, artistico, che è un po', appunto, diceva Stefano, prima la nostra missione come associazione. Ma ci sono poi spettacoli come lo ha da sua Ada Byron, la prima donna da occuparsi di informatica, proprio a Torino, se ricordo bene, all'inizio dell'Ottocento, che pone il problema del genere, non nel campo dell'informatica. Un tema che sarà ripreso, tra l'altro, che può avere a che fare con la cittadinanza digitale, quindi con l'educazione civica, e che sarà ripreso poi l'8 di ottobre. Le osservazioni importanti sono che i contenuti di molti webinar sicuramente possono interessare docenti di informatica, di matematica, di fisica, cioè in generale tutti quelli che si trovano a insegnare con dei dispositivi digitali, per esempio la storia del software Apollo 11, o della calcolatrice elettronica pisana, la babele, dei linguaggi di programmazione. Altri webinar, altre attività, sono assolutamente unici e possono coinvolgere docenti, e quindi allievi, hanno a che fare con le lingue, la letteratura, la storia, l'arte e la musica, perché propongono degli approcci che in Italia non si sono ancora visti, dalla poesia digitale all'approccio critico allo studio del codice, ad arte e a musica. C'è una forte dimensione interdisciplinare. Ci sono poi dei webinar che riguardano tutti, quello problema dell'open source o della conservazione dei programmi, dicevamo, il ruolo delle donne nel campo della informatica. E ci sono poi degli eventi che, oltre a essere parte della cultura digitale, sono eventi piacevoli e godibili da tutti, in particolare alcuni rivolti agli allievi delle scuole. Oltre allo spettacolo di Eloata, ci saranno, per esempio, due concerti di live coding. In altre parole, ci sono tanti stimoli alla cultura digitale, ma anche spunti per ricerche interdisciplinari di cittadinanza e di cultura digitale, che è un tema importante ed attuale per le scuole. Bene, vorrei approfondire un attimo questa questione della mostra del codice sorgente, perché se non ho capito male, leggendo la documentazione della vostra manifestazione, l'idea è anche quella di realizzare una mostra itinerante, che possa poi girare nelle scuole, in modo da essere fruita da un maggior numero di persone. E' così? In questa situazione abbiamo deciso di lavorare con una versione online, con una decina di allievi dell'Istituto di Istituzione Superiore Avogadro di Torino, in un percorso di PCTO, cioè quella che una volta era scuola-lavoro, con lo scopo di approfondire la cultura e quindi la cittadinanza digitale nel mondo dei giovani e della scuola. Una decina di ragazzi è lavorato più o meno fino ad un verso ferragosto e presenterà il 5 ottobre alle 18.30, non solo a compagni e docenti e genitori, ma a tutto il pubblico, e inaugurerà quindi questa mostra. La mostra è articolata in una decina di sale, che per il momento è visitabile online, ha come obiettivo però la diffusione della cultura della programmazione ed è rivolta quindi a tutti, quindi non solo agli allievi delle altre scuole secondarie, ai loro docenti, agli esperti, ai programmatori, ma al mondo universitario, ma anche alle famiglie e al pubblico, diciamo, comune. La condizione è che sia curioso e interessato all'argomento per capire la ricchezza, la varietà di cosa c'è dietro e di quello che spesso viene considerato un fatto tecnico o addirittura ignorato. Quindi, se abbiamo ben capito, questo festival è un festival virtuale, cioè nel senso che si svolgerà online, però per il futuro voi penso che vogliate fare anche delle cose fisiche, delle cose in presenza. Qual è il progetto? Allora, come puoi immaginare, forse non l'abbiamo detto, il festival è stato progettato per essere realizzato l'anno scorso, l'anno passato, e non è stato possibile, per ragioni che tutti sappiamo. Per chi ci vedesse dal 2030, siamo nel 2021, e quindi quello che è successo nel 2020, purtroppo, è che nessuna iniziativa in presenza è stata possibile. Questo però non significa che non l'avessimo progettato così, in realtà erano, pensate, delle iniziative laboratoriali in cui veramente i ragazzi dell'università e altri si mettessero proprio insieme in una stanza per fare dei lavori insieme, per leggere il codice sorgente insieme, per recitarlo, per smontarlo, per scoprire come funzionano questi linguaggi esoterici di cui nessuno sa niente, magari fare anche insieme delle cose. E questo vale anche per la mostra, la quale mostra era stata pensata come mostra in presenza, come mostra itinerante, che doveva essere presentata in un certo numero di scuole, in particolare in Piemonte proprio, per coinvolgere, nelle scuole, quindi nell'altro della scuola, in modo da coinvolgere appunto studenti, ma anche genitori, ma anche gli altri insegnanti e gli altri strumenti delle altre classi, perché fisicamente le cose effettivamente si vedono meglio, uno ci cammina dentro, capisce, trova, trova anche degli oggetti particolari. La difficoltà del codice sorgente è che essendo una cosa virtuale è anche difficile proprio immaginarsela, quindi dare delle rappresentazioni tangibili proprio del codice sorgente, ma intendo dire proprio degli oggetti che rappresentano, per esempio, la struttura d'albero di un codice, oppure le funzioni che si richiamano fra di loro con una macchina proprio fisica che fa vedere questi rapporti. Ecco, questa cosa in presenza è sicuramente più interessante, quindi noi contiamo di farla. E per questo che diceva prima Rodolfo, con il coinvolgimento degli studenti, cioè non è una cosa che noi vogliamo fare da soli, l'idea non è quella di trasmettere conoscenze agli studenti, l'idea è quella di costruirla insieme a loro. E questo vale sia per la parte online, perché come le dieci stanze che ci sono sono state riempite grazie al supporto degli studenti dell'Avogadro, e così si possono fare altre stanze, oppure quelle stesse stanze si possono arricchire di altri pannelli. Le stanze, lo dico così velocemente, riguardano proprio gli attori di questo mondo, chi ha inventato linguaggi, chi sono i più grandi programmatori, ma anche come lavorano i programmatori, che strumenti usano, quali sono i concetti di base della programmazione, ma anche quali sono le interfacce, cioè visualmente i colori. Ecco, è veramente un tentativo di rappresentare tutta questa parte, e quindi agli studenti chiediamo di fare delle ricerche, di andare a intervistare delle persone che sono state importanti, per esempio a Ivrea, in Piemonte, ci sono tanta storia dell'informatica italiana che si è svolta in Piemonte, e quindi andare a intervistare le persone che sono state protagoniste di questa cosa, e poi riportarle nella mostra. Questa cosa speriamo di poterla fare anche nel futuro, in presenza, quindi andare nelle scuole, raccontare questo, portare un pezzo di mostra, ma poi spingere gli studenti a arricchirla con altre parti. Bene, abbiamo detto molte cose, quasi tutto, però vediamo di fare il punto sul calendario della manifestazione. Lo chiediamo a Rodolfo Marchisi. Allora, Rodolfo, quando si parte, quando prenderà avvio il festival? Allora, il festival, il programma è in questi giorni, insomma, in corso di pubblicazione sul sito ufficiale che è codefe.st. Allora, parte il 27, lunedì 27, con una presentazione, e durerà due settimane. Ogni giorno, al pomeriggio, ci saranno una, verso le 17, un incontro con esperti internazionali. A seguire, ci saranno delle attività, dei laboratori, delle performance, e così via, e ci saranno poi in orario serale, verso le 21, spettacoli teatrali come l'Oada, concerti, live coding, e quindi ci saranno una serie di iniziative per 15 giorni. Ecco, chiudiamo con Stefano Penge, a cui chiediamo, ecco, voi avete anche realizzato un sito, ne accennava poco fa Rodolfo, qual è l'indirizzo del sito, e che cosa si troverà dentro questo sito, soprattutto? Allora, sì, il sito ufficiale, quello, diciamo, che presenta il festival, i contenuti, eccetera, è l'indirizzo codefest, cioè codefe.st, che è il modo più facile per arrivarci. Poi, per partecipare al festival, quindi proprio per interagire, per vedere, per, insomma, essere dentro le cose, c'è una piattaforma, questa piattaforma permette sia di registrarsi, di iscriversi ai singoli eventi, e poi dopo, direttamente dentro la piattaforma, si potrà, diciamo, assistere alle presentazioni, a partecipare ai workshop, eccetera. Questa seconda piattaforma ci si arriva dal sito, dal sito ufficiale, comunque, la dico, poi magari la vedete scritta in sovraimpressione, è codefest2021.linkslab.com. Bene, allora, molti auguri per questa interessante, e se mi permettete, anche un po' curiosa iniziativa, perché non sempre si parla, appunto, di codice sorgente, di linguaggi di programmazione, nei termini in cui voi avete deciso di parlarne, questa idea di parlare dei linguaggi di programmazione come di linguaggi nel vero senso della parola, che possono essere analizzati, studiati, smontati, riutilizzati per costruire, per raccontare, ecco, perché l'idea, se non capisco male, è proprio questa, cioè il linguaggio di programmazione serve anche a raccontare, non soltanto a far funzionare un oggetto, il linguaggio di programmazione può anche essere studiato proprio come una lingua a tutti gli effetti, che ha i suoi effetti, ha i suoi effetti di vario genere, quindi credo che sarà davvero una avventura interessante, non soltanto per gli informatici puri, ma anche, come avete detto, per gli insegnanti, per i letterati, per i poeti, ecco, non lo so se mi sto allargando troppo, ma credo che questo sia. Bene, allora davvero ancora tanti auguri per l'iniziativa, ricordiamo, si parte il 27 settembre, si va avanti per 15 giorni consecutivi con iniziative, laboratori, attività di vario genere, sul sito Codefest trovate tutte le informazioni per poter partecipare. Grazie ancora Stefano Penge e alla doccia. Grazie a te. Buon lavoro.